con la speranza di regalarvi una piacevole serata vi auguriamo buon ascolto e passiamo subito al programma di questa sera e chiamiamo quindi il coro Montedosso il coro Montedosso è nato solo pochi anni fa da prima solo come coro maschile infatti adesso eseguiremo un coro un canto solo per coro maschile le donne arrivano dopo tranquilli che arrivano a cui appunto si sono aggiunte diverse rappresentanti del gentil sesso conservando quindi una doppia anima coro maschile e coro misto il coro è diretto dalla maestra Antonia Forsini il primo pranzo che seguiremo penso che abbia bisogno non abbia bisogno di presentazioni lo eseguiamo con l'arrangiamento di Mario Folguori la Valsugana quando saremo fora, fora della mazzugana quando saremo fora, fora della mazzugana l'amma non abbia bisogno di presentazioni l'amma non abbia bisogno di presentazioni l'amma non abbia bisogno di presentazioni La mamma Rasta bene, la Padre l'ha apparao, Il progetto a Ranma, chi sarà? Lo fa dopo e verrà, il progetto a Ranma, lo fa dopo e verrà, il progetto a Ranma, il progetto a Ranma, chi sarà? Grazie a tutti. 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 la... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. La mattina presto tempo suona la campana, per gli appiccoloni, per andare a scuola. La mattina presto tempo suona la campana, per gli appiccoloni, per gli appiccoloni, per andare a scuola. Un bel giorno noi faremo una gran carriera, a San Pietro porteremo la minuta sera. La mattina presto tempo suona la campana, per gli appiccoloni, per gli appiccoloni, per andare a scuola. La mattina presto tempo suona la campana, per gli appiccoloni, per gli appiccoloni, per andare a scuola. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.